Non so se notate sta spalla, vi dico la verità, è un po' pesante, un po' ingombrante, non è molto comoda, comunque quando cammini, stai con queste spolle grosse, un po' fastidioso, però non serve sempre. Non so se notate sto collo, un po' ingombrante pure questo, vi dico la verità, quando va a letto con sto collo grande, un po' stai rigido, però tutto a posto. Regan, so come fanno, entro più in una telecamera, poco in centro, forse di profilo centro, ma così poco in centro, però queste spalle ingombranti proprio, guarda, non ce la fanno. Penso se per sbaglio ti scarico sta pagnotta là in bocca, che succede, per me ti risvegli che c'è la barba lunga fino alle ginocchia. Non ce la fanno più in una telecamera, vedi che le spalle vanno fuori, mi devo stringere dentro una telecamera, devo fare così, così c'entro. Se sto normale non c'entro più in una telecamera, aiutatemi. Che... che... Stacca fa, bravo? Sempre, io. Sempre. Oh!